Dai 12 paesi fondatori, tra cui l'Italia del 1949, alla Macedonia del Nord, entrata nel 2020, sono attualmente 30 i membri della Nato. Creata per proteggere la sicurezza dei paesi di Europa e Nord America dalla minaccia del blocco sovietico, anche dopo la caduta del muro di Berlino, ha continuato a rappresentare il principale legame militare delle potenze occidentali, arrivando anzi ad allargarsi sempre più a est, fino a comprendere numerosi stati dell'ex patto di Varsavia. La Nato è impegnata a proteggere i suoi membri con mezzi politici e militari, in particolare attraverso il principio di difesa collettiva presente nell'articolo 5 del Trattato di Washington, secondo cui un'aggressione a uno Stato membro equivale a un'aggressione a tutti. Finora l'articolo 5 è stato invocato solo una volta, nel 2001, in occasione degli attacchi terroristici dell'11 settembre negli Stati Uniti e della conseguente guerra in Afghanistan. Sono migliaia le basi Nato sparse in tutta Europa, solo in Italia se ne contano 120, non tutte della stessa rilevanza. In certi casi si tratta di semplici stazioni di telecomunicazione, poligoni di addestramento, depositi. Sono sparse in quasi tutte le regioni della penisola, a cui si aggiungono una ventina di basi segrete americane, non riconosciute ufficialmente per motivi di sicurezza. In dotazione alla Nato, in Italia sono state installate alcune decine di testate nucleari, tra Aviano in Friuli Venezia Giulia e Ghedi in Lombardia. Si stima che siano un centinaio in tutta Europa.